Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare subito un prodotto che mi è stato fornito per provarlo, testarlo e scoprire se questi prodotti comunque diano un effetto diverso al nostro organismo. E sto parlando proprio della vitamina D. Prima vi invito ad iscrivervi al canale qui sotto, ad attivare la campanellina delle notifiche e una volta che avete visto il video, se vi piace appunto questa tipologia di video, lasciate l'acqua qui sotto. Questo qui è riprodotto da Metagenics. La vitamina D ovviamente è importantissima. Come ben sappiamo è qualcosa che noi riusciamo a ritrovare nelle giornate estive, quindi dal sole, che poi in inverno vanno man mano degredendo, quindi vanno a sparire. Quindi il nostro organismo non è più protetto da questa vitamina D che fa bene sia alle ossa, ma soprattutto al sistema immunitario. Per questo siamo soggetti a malattie, quindi abbiamo poi successivamente febbre, abbiamo influenze e quant'altro. Viene un po' trascurata questa cosa. Per cui mi è stato fornito questo qui, la vitamina D che non è altro, è vero che è una compressa, ma sono una sorta di caramelle facile da utilizzare senza acqua, ma soprattutto tascabili e da portare con sé in borsa per ogni occasione. e vi mostro subito come sono fatti. All'interno sono in questo modo, sono piccini e hanno il gusto di lime, quindi una vera e propria sorta di caramella, quindi la prendete anche con molta più voglia e la potete utilizzare in qualsiasi momento della giornata, quindi l'arco della giornata avete voglia di una caramellina e quindi potete utilizzare questa, ma ovviamente una sola volta al giorno. Questa qui che mi hanno appunto inviato sono da 86 compresse, se non erro, 84, scusatemi perché sono il tipo 28 compresse ogni schidina, non so come chiamarle, e quindi sono 84, poi c'è anche quella da 176, 186, quindi molto più compresse. E in questo modo abbiamo coperto quasi 3 mesi di vitamina D, che è molto importante. Da quando utilizzo la vitamina D, ovviamente sembra aver avuto un cambiamento, anche perché mi sento molto più energica, quindi sono compresse che sono adatte ad ogni organismo e per tutta l'età. Soprattutto lo richiedono le persone anziane, le donne incinte, bambini, che è molto importante, però ovviamente per i bambini c'è un'altra tipologia di confezione, proprio adatta a loro. E seguendo le istruzioni, la vitamina D contribuisce al sistema immunitario, al mantenimento delle osse e denti normali, mantenere una normale funzione muscolare, normale assorbimento e utilizzo di calcio e fosforo e una normale calcemia. Quindi, a riferese a altre vitamine che siano compresse, utilizzabili con l'acqua oppure delle gocce, queste invece le hanno fatte masticabili e molto più buone, quindi molto più gustose, che danno quindi un piacere nel provarle. Cosa dire, la vitamina D è molto importante per tutti, come ogni tipologia di vitamina, che sia la A, la B, la C, la D, la D ha la sua funzione e quindi non deve mai mancare, soprattutto nel periodo invernale, quindi dove il sole manca. E quindi bisogna assumere questa tipologia di vitamina per far sì che il nostro organismo, il nostro corpo sia un po' più lineare, molto più in salute e quindi mi invito a farlo. Ovviamente provate proprio questi qui, se avete quindi piacere di utilizzare qualcosa di più comestibile, qualcosa di più carino e gustoso, soprattutto se vi piace il lime, che non è un altro appunto, una sorta di limone molto più acerbo. e ovviamente sono da 84 compresse masticabili e ovviamente ci sono quelle in più compresse. Ciò è tutto, quindi vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e lasciando like al video e noi ci vedremo sicuramente in un prossimo video. Ciao!